Questo tribunale decreta dunque che Walter McMillian sia condannato alla sedia elettrica. È mio padre, signore. Si sieda subito. John, ti devi sedere adesso. Non ho fatto niente di male. La prego, giudice, un momento. Non lo voglio ripetere. Si sieda. No, se uccidete mio padre è senza motivo. Lei uccide la mia famiglia! Lei! È ovvio che il processo è stato costruito su delle bugie. Quando prendi un nero e lo metti nel braccio della morte un anno prima del processo, quando ogni prova della sua innocenza viene occultata e chiunque cerca di dire la verità viene minacciato, non è un processo. Non è giustizia. Non vorrà mollare? No, signore. Era come guardare un fiume pieno di gente che annega e non avere un modo per salvarli. Lei non sa com'è da queste parti. A loro non servono le prove. Quanti di voi erano con Walter quella mattina? Ma chi parla? L'uomo che ha messo una bomba sotto casa tua. Tutti fuori, subito. La tua vita ha ancora un valore e io farò tutto il possibile perché non te la portino via. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La tua vita ha pensionato. La tua vita ha messo una bomba sotto casa tua. Grazie.